Michela Gottardo, il 12 ottobre si vota per la provincia. Voi come liste civiche, come candidati civici, quindi non iscritti al partito, fate un appello vero e proprio. Di cosa si tratta? Sì, certamente. L'appello importante che voglio fare come rappresentante della lista civica Rubano al centro è quello di sostenere questo cantiere della liste civiche. Liste civiche che si sono espresse nelle recenti elezioni amministrative e che sicuramente vogliono avere un ruolo determinante e fondamentale nell'elezione del nuovo ente di secondo livello. Qual è il problema, il pericolo in cui si incorrerebbe secondo voi se non viene tenuto conto di questo appello che voi rivolgete agli altri consiglieri? Sì, c'è un pericolo molto forte ed è quello che i soliti noti, le solite segreterie del partito decidano sulla testa dei cittadini senza proporre delle soluzioni concrete a quelli che sono i problemi sovracomunali, quelli che sono i problemi che riguardano una gestione del territorio che ci renda sempre più indenni da quelli che sono i disastri idrogeologici, che tenga conto delle comunanze per quanto riguarda la gestione urbanistica e in particolare che possa essere in qualche modo da ente coordinatore rispetto anche a quelle problematiche che i comuni più piccoli non riescono a gestire. Mi riferisco alla gestione dei fondi strutturali, dei fondi europei che sono sempre ad appannaggio di unione di comuni o di federazione di comuni e che vedono spesso i comuni più piccoli rimanere al palo, proprio perché manca una gestione strutturata con delle competenze specifiche per la gestione, prima per la domanda e poi per la gestione, dei fondi strutturali europei. Quindi in questo senso l'ente provincia potrebbe essere sicuramente un organismo che risponde a queste esigenze.